Ancora oggi il nostro sistema sanitario nazionale nella sua integrità riesce a soddisfare tutte le esigenze con grande fatica, con grande sofferenza, con grande impegno da parte dei medici che sono in prima linea e che dobbiamo ringraziare perché questo è un'emergenza e il personale sanitario perché non sono solo i medici ma è un sistema che lavora ed è un'emergenza, permettetemi di dirlo, un'emergenza particolare. Noi siamo abituati, almeno per quello che riguarda noi, riguarda voi, i colleghi che sono all'interno di questo Dipartimento, a emergenze che hanno un contorno, una delimitazione, hanno una definizione e quindi una volta verificato l'evento pian piano mentre si va avanti si riesce a definire l'intervento, a limitare le conseguenze. Qui abbiamo una situazione in cui il virus lo stiamo contenendo adottando delle misure che credo e ci confermeranno gli esperti come la chiusura delle zone rosse dove è stato fatto un contenimento positivo in termini risultati ma soprattutto e voglio concludere era quello che ricordava il professore Brusaferro, qui noi vinciamo questa battaglia, questa guerra se i nostri concittadini adottano dei comportamenti responsabili, cambiare il modo di vivere soprattutto per chi è in una categoria fragile ed esposta al rischio. Credo che questo è il messaggio che dobbiamo con forza comunicare e veicolare anche attraverso di voi.